E' stata dimessa ieri sera la dodicenne termolese ricoverata per Covid al Santimoteo e per cui l'intero Molise era in apprezzione. Una buona notizia che purtroppo non oscura il dramma che l'emergenza Covid sta producendo. L'ultimo bollettino riportava ancora dei decessi. Non ce l'hanno fatta una 93enne di Campomarino che era in malattie infettive e due pazienti che si trovavano nell'area grigia dell'ospedale di Termoli, un 74enne di Guglionesi e la 33enne di San Martino in Pensilis. La notizia che si era diffusa sin dalla mattinata di ieri ha sconvolto la regione e si tratta della vittima più giovane dall'inizio della pandemia. E sono 10 le persone ricoverate nelle ultime ore tra Campobasso e Termoli e il dato delle terapie intensive è allarmante. 14 posti occupati in malattie infettive ci sono 81 persone, 4 i pazienti nell'area grigia del pronto soccorso del Santimoteo, 6 al gemelli. Su 940 tamponi processati sono stati registrati 67 positivi con un tasso al 7,12% per quanto riguarda la contagiosità. Centri più colpiti Sernia con 9 casi, Campobasso e Termoli con 8, Venafro 7. Guarite 79 persone, quindi gli attualmente positivi sono 1.701, mentre i soggetti in isolamento 1.753.